Kingslave Corporation e oggi siamo qui su God of War un'altra volta Allora, ci tengo a precisare che io mi dissocio da quello che ha scritto l'utente precedente Mi dissocio completamente, ha scritto una cosa ingiustissima Non ne voglio sapere niente e non ne voglio parlare mai più Signori di Twitch, signori di Youtube, mi dissocio Continuiamo Continuiamo, continuiamo, scusate eh ragazzi ma devo prendere provvedimenti perché è qui Dove sta? Fammi vedere Stava un po' più prima Vabbè ragazzi Continuiamo Allora Ah ok Allora, qui abbiamo tutto O manca solo un castigo degli Aizir E lega di Niflheim Quindi dobbiamo andare a Niflheim Allora 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 grazie ho avuto un piccolo problema un'ultima volta a Niflheim poi dopodichè facciamo le missioni a Midgard scusate ragazzi scusate un attimo 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 un attimo un attimo un attimo scusate un attimo scusate un attimo scusate un attimo un attimo scusate 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 un attimo no mandate il castigo di jazierro no Grazie a tutti. 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 controllo. a tutti. a tutti. E completiamo. to work. Facciamo tutto. mancano tre artefatti aspetta mi avvicino un attimo due favori completati tre artefatti due indicatori appunti 5 corvi un forziere delle norne e un forziere leggendario che sappiamo dove andare perchè qui eh manca uno 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 ok sappiamo dove andare quindi oddio raga non c'è più se me va dopo ma c'è una terza live se me va però ecco lui io venivo prima sto un gioco del merda no no è vero è un giocone questo è un giocone di nuovo al corno se suono quel corno raga finiamo il gioco quindi no ancora no dobbiamo andare lì lì dobbiamo andare perché abbiamo poi abbiamo le ossa di gulbig eccola eeeh miau eeeh miau che è qua giusto sì è qua ho detto bene mimiri cosa mi sai dire della gigantessa con l'acqua si chiamava scari regina della caccia ora la teniamo per quello qua sotto la superficie perché questo trofeo meglio così no ok non si apre però per di qua si sale ah vabbè questo è meglio di spacerà ok per di qua si va ah scusate devo sentire il corvo è vicino eccolo ok ok Grazie a tutti 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 8 polene, bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti